E quindi quando vi troverete davanti a un grafico che rappresenta una certa grandezza fisica, ad esempio la velocità in funzione del tempo, l'area sottesa da quel grafico rappresenta un'altra grandezza fisica. Sempre nell'esempio della velocità, l'area sottesa da quella curva rappresenta lo spazio che quel corpo ha percorso proprio in virtù di quella velocità. E se non è pratico questo, non so proprio cosa lo sia. Ma c'è un'altra utilissima applicazione degli integrali che non richiede per forza di passare per le derivate e quindi per operazioni inverse. Infatti possiamo usare gli integrali anche per trovare delle grandezze che sono espresse come la somma di tante piccole grandezze. Che vuol dire? Beh, l'abbiamo già visto in parte nel video sui solidi di rotazione. Abbiamo visto come un volume può essere trovato sommando tutti gli infinitesimi volumi. E in fisica questa cosa si fa spessissimo. Ad esempio in fisica esiste una grandezza chiamata lavoro, che è il prodotto scalare tra la forza con cui si cerca di muovere un corpo e lo spostamento che si cerca di far fare proprio a quel corpo. Possiamo riscriverlo in due modi questo prodotto scalare. O come f per s coseno di teta, oppure in senso cartesiano, se sappiamo che la forza in un piano cartesiano è scomposta in due componenti, quindi f1 ed f2, e lo spostamento si può scomporre in due componenti, x e y, allora possiamo riscriverlo come f1 per x più f2 per y. Non è un corso di fisica né di geometria, quindi non andremo a spiegare perché il prodotto scalare può assumere queste due formule, ma intanto ci accontentiamo di dire che il lavoro può essere espresso in questi due modi. Questo lavoro serve in pratica a capire quanto una forza sia efficace per far compiere un certo spostamento a un corpo. Ad esempio, se ci pensate, quanto è utile la forza peso a far compiere al corpo un movimento orizzontale? Ovviamente non è efficace, non posso far strisciare un corpo sul pavimento in virtù di una forza verticale. E il lavoro ben esprime questa inutilità della forza peso perché se dovessimo effettuare il prodotto scalare avremmo m per g per lo spostamento, non importa di quanti metri, per il coseno di 90 che è 0. E quindi ha un'efficacia pari a 0, cioè non è efficace. Ora, per conti così diretti noi possiamo anche fare a meno degli integrali, ma che dire di una situazione in cui voglio far compiere a questo corpo un movimento magari sempre orizzontale ma in virtù di una forza variabile, quindi magari è sottoposta, non lo so, al movimento del vento, quindi in una certa posizione sentirà una spinta che va in alto verso destra, quando il corpo invece si trova qui sentirà una spinta in basso a sinistra, qui la sentirà magari pressoché nulla, eccetera, eccetera. In questo modo, com'è possibile trovare il lavoro con un conto così diretto? Beh, non è possibile, ma possiamo girarci intorno e comunque trovare la soluzione. Se infatti questo è il tragitto S, possiamo suddividerlo in tanti piccoli blocchi di ampiezza dS, talmente piccoli da considerare la forza che agisce in quel tratto come una costante. Cioè, sicuramente magari la forza da qui a qui è cambiata, ma se prima era in alto a destra facendo un angolo di 30 gradi e qui sarà in modulo quasi uguale, ma con un angolo di 29,99 gradi, beh, non è che c'è molta differenza. Se poi il tratto lo facciamo tendere a zero, quindi lo rendiamo veramente piccolo, non ci sarà distinzione tra la forza che compare qui e che compare qui, anche se questa può essere variabile nello spazio. Quindi, in questo tragitto così minuscolo, possiamo trovare quello che viene chiamato lavoro elementare, o DL, come il prodotto scalare standard tra la forza che agisce in quel tragitto e il dS. Questo prodotto scalare può essere scritto come F1 per non più x, ma dx, a evidenziare che la componente di questo dS è minuscola, più F2 per dy. Non facciamoci spaventare da questo simbolo, sto solo indicando che in una situazione in cui il tragitto fosse esteso in un piano, ogni pezzettino dS obliquo dovrebbe essere per forza scomposto in una componente minuscola dx e in una componente minuscola dy. Similmente al video in cui abbiamo spiegato la tecnica della sostituzione, dove dividevamo il grafico in dt e dt quadro. Ma, nell'esempio che stiamo facendo noi, la linea è totalmente orizzontale, quindi è ovvio che possiamo scomporla direttamente soltanto in una componente x. E quindi dS, in questo sistema di riferimento, avrà componenti dx, 0. Il prodotto quindi con la componente F2 si annulla e il lavoro può essere scomposto soltanto in questo modo. Arriviamo con un conto molto veloce a dire che se il tragitto si estende da un punto A a un punto B, possiamo trovare il lavoro sommando tutti gli infinitesimi lavori, quindi sommando tutti i lavori dl, ovvero facendo l'integrale del prodotto tra F1, che è espresso in funzione di x, in dx tra A e B. Ed ecco quindi che ritorna il trucco con cui abbiamo trovato i solidi di rotazione, cioè troviamo delle grandezze sommando tutti gli infinitesimi valori proprio di quella grandezza, che è stata espressa come il prodotto tra due grandezze, a sua volta la forza e lo spostamento, e una di queste grandezze l'abbiamo fatta tendere a 0, trasformando l'S in ΔS e poi in dx per il contesto in cui siamo. Quasi non ci sono più limiti grazie agli integrali, ragazzi, cioè addirittura non solo troviamo grandezze di cui dobbiamo sapere la derivata, ma possiamo anche calcolare grandezze semplicemente facendo somma di termini più elementari. E da lì il gioco è fatto. Tornando proprio all'esempio del lavoro, in un grafico dove lo spazio è sulle X e la forza è sulle Y, l'area sottesa da questa funzione rappresenta il lavoro e quindi l'energia scaturita nel processo di spostamento di un corpo. E questo è fantastico perché ci fa capire finalmente cosa farcene di queste aree e che aree non sono. Possono rappresentare dei tragitti, delle energie, come il lavoro, e addirittura possono rappresentare la massa di un corpo. Immaginate di voler vedere quanto pesa un disco, di raggio 1 ad esempio, senza prima sollevarlo e farvi venire una potenziale ernia. Tuttavia questo disco non è omogeneo, cioè non ha una massa distribuita allo stesso modo in ogni suo punto, ma anzi ha una densità che cresce man mano che ci allontaniamo dall'origine. E questo è un problema, perché normalmente per trovare la massa di un corpo ci basterebbe moltiplicare la densità di quel corpo sigma per la sua superficie. Ma se la densità, abbiamo detto, è variabile e quindi è espressa da una funzione, come faccio a trovare la massa come un numero ben definito? Beh, ancora una volta, possiamo usare gli integrali. Se la densità, infatti, dipende dalla distanza dal centro, vuol dire che sigma si può esprimere con una formula che ad esempio può essere k per r. Cioè, nel senso, sarà una costante per il raggio. Quindi se raddoppiamo la distanza dal centro, chiaramente avremo il doppio degli atomi. Poniamo per semplicità k uguale a 1. E quindi diciamo proprio che sigma è pari a r, chili su metri quadri. Visto che a parità di distanza dal centro avremo la stessa massa, perché sigma dipende solo da r, e quindi tutti i punti distribuiti su questa circonferenza hanno lo stesso r, quindi la stessa massa, possiamo metterci a calcolare il valore di una infinitesima massa dm su uno di questi generici anelli. Questo anello avrà una superficie ds. E quindi possiamo intanto dire che dm, la massa di questo anello, sarà pari a sigma per ds. Da qui il ragionamento potrebbe essere ovvio, cioè la massa, l'integrale di entrambi i membri, varrà quindi l'integrale di sigma in ds. E però c'è un problema, perché se noi ora esplicitiamo sigma, abbiamo l'integrale di r, non in dr però, ma in ds. E io non posso svolgere quest'integrale se la funzione è espressa in una variabile e la base in un'altra. Come possiamo fare quindi? Beh, se fino ad ora abbiamo visto l'utilità fisica degli integrali, ora vediamo quella della sostituzione. Sappiamo infatti che la superficie di un cerchio è pari a πr quadro, e quindi la superficie di un piccolissimo anello, quindi di una strisciolina circolare ds, sarà pari, per quello che abbiamo appreso nella tecnica della sostituzione, alla derivata di πr quadro, cioè 2πr, per dr. Ora, prima di andare avanti, ragioniamo su quanto sia fantastica questa cosa, cioè la matematica ci ha confermato una cosa che visivamente è anche molto intuibile, cioè l'area di una strisciolina ds circolare, con cui suddividiamo ogni generico cerchio di raggio r, si può trovare facendo il perimetro di quella circonferenza, quindi 2πr, per il dr, l'infinitesimo spessore di questo anello. Ed è bellissimo vedere che formule che dobbiamo seguire, perché sì, alla fine poi si traducono in complesse riorganizzazioni della geometria del problema. Ma andando avanti, se no mi emoziono troppo, possiamo quindi dire che la massa si potrà trovare facendo 2π, che porto fuori dall'integrale, per appunto l'integrale da 0 a 1, perché appunto andiamo dal centro di questo raggio fino al raggio massimo, che è 1, della formula r quadro in dr. È un integrale immediato che vale r al cubo terzi, che tra 1 e 0 vale 1 terzo, e quindi l'integrale finale, cioè la massa di questo corpo, vale 2π fratto 3, cioè circa 2 kg. Morale della favola, potete sollevare questo disco senza alcun problema. Ragazzi, spero di avervi reso un minimo intrigati da questo argomento. Gli integrali sono senza dubbio i miei operatori preferiti, perché da una formula stupida, che è base per altezza, o forza per spostamento, o superficie per densità, si arriva veramente a trovare un mondo di cose. Se volete sperimentare anche voi questa emozione, vi lascio la scheda degli esercizi associati, dove potrete mettervi alla prova nell'applicare gli integrali per trovare aree, masse, volumi e molto altro. Buon divertimento! Grazie a tutti!